Si riparte. Lunedì 1 febbraio si torna tra i banchi di scuola con orario differenziato su due fasce d'ingresso. È iniziato il countdown per gli studenti delle scuole superiori per avvicinarsi nuovamente alle loro classi. Non mancheranno sicuramente le difficoltà ma in questo momento non bisogna distaccarsi da un concetto fondamentale che finalmente si torna a scuola. Così Claudio Naddeo, dirigente scolastico dell'Istituto di istruzione superiore Trani Moscati di Salerno e presidente provinciale dell'Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici, commentando il rientro a scuola e facendo appello allo stesso tempo alla responsabilità di tutti, dei docenti, dei ragazzi e delle famiglie, evitando che i ragazzi escano troppo presto da casa per poi attendere la seconda fascia d'ingresso. Si confida poi in un ottimale piano dei trasporti con un allineamento degli orari dei pullman soprattutto con le uscite da scuola. Finalmente ci riproviamo a riportare gli alunni tra i banchi di scuola e questo è l'obiettivo fondamentale nel rispetto delle percentuali che ci sono state consigliate dal documento operativo frutto del tavolo prefettizio, quindi già nel primo documento che ci è pervenuto il 30 di dicembre. Come ANP provinciale e come presidente provinciale dell'ANP ho promossi già un coordinamento dei dirigenti scolastici il 3 di gennaio per metterci al lavoro e per pianificare queste due fasce che ci sono richieste. Nella fattispecie nel mio istituto una prima fascia prevede un 25% del 50% della percentuale con ingresso alle 8 e una seconda fascia con ingresso alle 9.50 e ovviamente con l'uscita negli orari sfalsati tenuto conto che poi ogni singolo istituto, i licei hanno un monte ore, nel nostro caso il professionale ha un altro monte ore. Le difficoltà ci sono, è inutile negarsi, però non perdiamo di vista l'obiettivo fondamentale che è quello di riportare i ragazzi tra i banchi di scuola e per prove e per errori l'importante è cercare di ripartire. A quanto pare il tassello, ieri è arrivato un ulteriore documento da parte del tavolo prefettizio che ci ha comunicato l'incremento delle corse da parte della regione, delle corse dei mezzi pubblici. L'unico punto sul quale bisognerebbe ulteriormente lavorare è quello di allineare l'uscita degli studenti con gli orari dei pullman. Questo al momento ancora è un dato. Nel mio caso del Trani ho studenti che provengono da 61 comuni, per cui è un lavoro sicuramente non facile. Noi le misure le adottiamo al massimo, anzi dovremmo poi incrementare progressivamente anche la percentuale. La preoccupazione delle famiglie è legittima, ma aggiungiamo un'altra cosa, la preoccupazione anche dei docenti. Perché abbiamo un personale docente che è esposto a rischio ugualmente come gli stessi studenti. Lunedì non so cosa succederà, mi auguro, anzi faccio appello allo spirito di servizio e di collaborazione per quanto riguarda il rientro. Le famiglie devono metterci anche loro. E' chiaro che se è previsto l'ingresso nella seconda fascia e ci sono le corse per i pullman per giungere dai vari comuni, nel nostro caso a Salerno, è inutile che i ragazzi si avviano prima per poi fare assembramento e stazionare davanti alle scuole in attesa dell'ingresso. Qui occorre la collaborazione delle famiglie, perché se no da soli non si va da nessuna parte.